salve a tutti bentornati su polvere fumetti e bentornati un nuovo video parliamo di fumetti molto 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 interessanti dopo la chiusura dei suoi due capolavori che sono the walking dead e invincible robert kirkman non riesce proprio a stare con la mano ferma io me lo vedo lì al suo studiolo che gli trema continuamente la mano visto che sta scrivendo anche il finale di outcast e sta continuando a portare avanti oblivion song evidentemente sente poco impegnato e allora si è buttato in questa nuova in questo nuovo progetto che appunto fire power pubblicato in america ovviamente dalla image ovviamente dall'etichetta skybound di cui lui è un po il capoccia diciamo il ceo di questa etichetta appunto per la image e che tra l'altro è un fumetto che arriverà tra pochissimi giorni proprio nel nostro paese grazie a salda press per cui mi sono detto visto che io il volume l'ho già letto in americano letto anche già i primi due spillati della serie mi sono detto perché appunto non parlarne leggermente in anteprima per appunto darvi anche il mio umilissimo e ignorantissimo parere al riguardo magari qualcuno interessato c'è appunto per cui perché non farlo a farsi aiutare a realizzare questo progetto robert kirkman si avvale di una superstar veramente del fumetto americano come era già stato per paul azaceta come era stato anche per charlie adlard insomma qua invece robert kirkman prende su un tizio che si chiama chris semney autore insieme a mark wade di due cicli bellissimi su dare devil per cui se non sbaglio si è beccato anche qualche eisner e la vedova nera ma anche uno sempre scritto da wade su capitan america insomma un disegnatore veramente della madonna per appunto realizzare questa serie tutta ambientata nel mondo delle arti marziali del misticismo orientale la cosa interessante è che prima dell'effettivo lancio della serie i due autori hanno sfornato appunto questo preludio che anche il volume che troverete appunto in fumetteria in libreria tutta una serie di edizioni appunto dal 22 ottobre per salda pressa io appunto già questa edizione americana me la sono già letta e mi è già piaciuta un sacco prima di lanciare quella che poi è la serie effettiva questi sono i primi due spillati appunto di firepower appunto hanno voluto realizzare ripeto questo preludio per introdurre un po per fare un proprio un po da prologo a tutta la storia effettiva per presentare il protagonista owen wilson si imbarca in questa avventura sulle vette innevate della cina per raggiungere questo tempio dove può dove desidera apprendere questa arte del fuoco questa abilità dello sparare delle palle di fuoco dalle mani però a tutti gli effetti questo non è il solo motivo per cui owen wilson si reca appunto in questo tempio perché entrando sempre più in confidenza con il maestro weilun il ragazzo spera di riuscire a trovare anche quelle che sono le sue origini a scoprire quella che è la verità legata appunto ai segreti che la sua famiglia nasconde da prima che owen wilson nascesse tutto questo solamente nel preludio per cui si butta già tantissima carne al fuoco inoltre le ultime pagine proprio del preludio ci buttano 15 anni dopo appunto la chiusura di questo prologo in cui il nostro owen si è costruito una famiglia conduce una vita tutto sommato normale ovviamente il passato non lo lascerà indisturbato anzi tornerà prepotentemente a bussare alla sua porta con un calcio rotante mi tolgo immediatamente questo piccolo dente perché sin dal suo annuncio e quando poi si è svelata ma si sono svelati appunto i primi dettagli relativi a questa storia non ho potuto fare a meno di rivedere tantissime similitudini con il personaggio marvel di iron fist e devo dire che se l'incertezza proprio dell'originalità della storia mi aveva lasciato un pochino così la mia fiducia è andata totalmente agli autori appunto di firepower in quanto sì se chris md è un disegnatore di cui anche lì mi fido ciecamente robert kirkman anche di suo ci ha dato già diverse buone motivazioni per fidarci di lui in particolare per i giochi che si creano tra i personaggi questa fiducia perlomeno in quello che ho letto finora è stata tutto sommato abbastanza ripagata la scrittura è molto molto gradevole ci sono i classici tra virgolette stilemi di scrittura di robert kirkman che è molto versato verso uno stile di scrittura del tutto simile delle serie televisive per esempio si gioca molto con una certo tipo di ironia in particolare tra i personaggi di una famiglia insomma la famiglia che poi è come era stato per esempio per invincible il fulcro che poi darà in qualche modo via alla serie effettiva nei primi due volumetti il fatto che appunto sia stato realizzato un volume preludio e diciamo che anche qua non mi stupirei per niente se fra qualche mese venisse annunciata anche una trasposizione televisiva anche proprio per questa serie di robert kirkman una storia che come fu già per iron fist all'epoca in marvel ma ancora prima probabilmente per shang chi dove si voleva giocare proprio con lo stereotipo del cinema dei arti marziali kirkman in qualche modo fa anche questo quindi alternando a queste scene di combattimento molto serrato anche questa a livello di sceneggiatura a livello proprio di anche di gestione della pagina gestione dei ritmi dei combattimenti è una cosa che mi è piaciuta veramente veramente molto con il mistero con il dubbio che non so la legge sul tempio in cui owen si allena ma anche proprio sulle sue origini sulla sua famiglia sui suoi genitori che in qualche modo hanno dei legami con questo tempio magico ritroviamo appunto poi owen ormai allontanatosi dal tempio da 15 anni con una famiglia due figli una moglie l'unica persona a sapere appunto del passato del marito è una cosa che abbiamo già visto per esempio in invincible un gioco in cui kirkman è molto bravo sebbene appunto all'inizio sia abbastanza simile ripeto proprio le dinamiche familiari un po di invincible vorrei appunto vedere come questa cosa si evolve nel corso delle uscite successive si gioca tantissimo anche con i colpi di scena in particolare il finale del 2 è abbastanza discreto insomma a rendere il tutto ancora più bello e più godibile è proprio il disegno di chris semni che con storie di questo tipo di arti marziali quindi con una certa carica di dinamismo non è affatto nuovo e ripeto andatevi a leggere per esempio la serie di daredevi le mischie che realizza appunto chris semni sono veramente molto molto belle la scansione dei combattimenti mi piace molto in particolare al nel secondo volume c'è proprio un bel combattimento anche molto divertente da seguire che che mi è piaciuto molto devo dire che mi dimentico sempre di citare i coloristi ma qua metti wilson secondo me mette ancora più in risalto proprio il lavoro di chris semni su queste pagine veramente ormai un colorista che ha lavorato tantissimo probabilmente tutto quello che semni ha fatto l'ho fatto insieme a questo colorista che va molto bene lavora molto bene ripeto alla fin della fiera il tratto di semni risalta ancora di più proprio grazie ai colori di matthew wilson per ora questo incipit di questa serie di firepower di robert kirkman e chris semni sembra essere abbastanza discreto devo dire che in particolare questo preludio mi ha divertito veramente veramente molto voglio proprio vedere come si svilupperà in futuro anche questa serie ora che appunto salda press ne ha portato anche da noi il primo assaggio proprio ripeto questo preludio tra l'altro l'edizione scusatemi italiana di salda press all'interno anche del volume avrà tutta una serie di schizzi e bozzetti se non ho capito male che sono contenuti anche negli spillati americani quindi se vi piace questo genere di contenuti extra è assolutamente da prendere perché anche vedere il character design le ideazioni le prime bozze appunto dei personaggi realizzati da chris semni sicuramente una cosa molto molto interessante è probabilmente il motivo per cui mi ricomprerò anche il volume in edizione italiana fatemi sapere se questa lettura questo acquisto è tra le vostre mire tra le vostre idee insomma fatemi sapere un po se l'avete letto anche voi in americano se avete già avuto modo di leggerlo insomma fatemi sapere un po se vi incuriosisce un pochino questo nuovo fumetto di robert kirkman appunto che ci ha lasciati orfani di due grandissime serie a fumetti se vi andasse di recuperare il volume di salda per esserlo trovate qua sotto in descrizione mentre se voleste virare invece sull'edizione americana ricordatevi che c'è ho visto cosa che potete rivolgervi sempre in descrizione ci sono anche i miei link per arrivare ai miei contatti facebook e instagram in particolare ve li ricordo ci vediamo forse venerdì o forse già settimana prossima con un altro video non so ancora di cosa parlerò e niente vi saluto vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video ciao belli ciao ciao ciao